Salve ragazzi e benvenuti in questa terza e spero ultima parte di The House 2 Ci eravamo lasciati alla working room e quindi vediamo che cosa si può fare Perfetto Già ho lo stronzo che mi sta uscendo perché mi sto cagando Però va bene Acidio nitrico, ah veleno così Perfetto Iniziamo bene No, non ti spegnere Ah Mio dio Non, 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 che cacchio Mi devo fare oh no accenditi non lo so non lo so ah che cazzo non l'avevo visto registrazione di nascita questo certificato eh un certificato di nascita è stato vabbè si ok nome di Alren Roche nato l'8 ottobre del 47 Voodland vabbè bla 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 e cazzate varie perchè mi lagga il gioco non lo so ho le cuffie sparate al massimo e mi sto cagando in mano e voi direte che mille fotte intanto lo stai giocando tu si però voi dovete spaventarmi pure perchè non è giusto mi spaventi solo io fanculo troia che cazzo che cazzo ma vaffanculo che vuoi che cazzo è safe room forse si servirà nell'ultima stanza fa un culo un piccata di merda devo fare oh perchè laggi non puoi laggare lagga in maniera spropositata devo fare devo fare maledetta puttana che cazzo che cazzo è non posso stare a vederti soffrire come questo non posso più vederti soffrire insomma va resti in peace riposa in pace ma mio povero bambino come cazzo dovrei riposare in pace come cazzo dovrei riposare in pace famiglia malata adottate una puttanella e poi dovrebbe restare in pace questo bambino morto che ha l'identità sconosciuta puttana della vostra eva addio che cazzo puoi lagga non puoi laggare non ti posso concedere di laggare gioco non mi puoi laggare cristo che cazzo è devo fare chi cazzo è ora un bambino demoniato il figlio del demonio 24 dicembre del 47 si poi tra l'altro è insanguinato mio dio è orribile tutto ciò porca puttana maledetti ultima stanza ultima fottuta stanza gioco di merda vaffanculo ah il codice prima con 1947 lagga in maniera assurda mio dio gizzo è tuo gizzo è tuo no aspetta volevo vivere l'inglese portami via non importa altro lasciala vivere che devo fare che cazzo che cazzo è questa mano va a un falculo no 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 che cazzo è che cazzo è che cazzo è che cazzo sta succedendo ora eccola eccola sei bellissima sei bellissima chi 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 uno a uno proprio non dovessi partire i miei minchi eh non consideratemi tale che cazzo è ora che devo fare che cazzo devo fare perché spuntinando ma vaffanculo gioco di merda daos 2 non è una storia vera tutte le foto i messaggi e la storia sono state fatte solo per l'assunzione cosa come per l'assunzione non c'è nessuna intenzione di non rispettare la professoressa di inglese sarà fierissima di me e violare alcuna persona ad all vabbè con questo video chiudiamo daos 2 un gioco in flash molto carino niente da dire non lo so se farò se farò The House 1 perché c'è un The House 1 c'è un The House 1 quindi non so se farlo e continuare questa serie di giochi in flash oppure spostarmi su altro non lo so deciderò col tempo intanto godetevi questo video anzi già ve lo siete goduto io no io non non godo di queste cose che faccio perché io mi odio facendo queste cose mi voglio del male voglio vedermi morire Samara puttanella è viva non morirà né ora né mai stanotte per chi guarderà il video adesso stanotte la ritroverei in camera vostra mi raccomando guardatevi le spalle perché vi inchiapetterà male anche se lei non ha il pene sto delirando il gioco mi ha fatto delirare quindi ragazzi chiudo qui questo gameplay spero vi sia piaciuto a me non mi è piaciuto spero vi sia piaciuto al prossimo al prossimo video sì dai al prossimo gameplay perché vlog ancora presto al prossimo gameplay ah un saluto a Jacopo che mi ha chiesto nel nella seconda parte di salutarlo ciao Jacopo quindi ragazzi un saluto dei crazy players e al prossimo video